Ministro arrivederci allora. Arrivederci, è solo appunto il primo giorno, quindi è un arrivederci, poi tra due mesi torniamo a vedere il lavoro che hanno fatto sulle proposte per la riforma della scuola. In bocca al lupo per il suo lavoro? Crepo il lupo, grazie. Sì, 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 tornerò tra due mesi così raccogliamo un po' i loro spunti, le loro idee e quelle dei loro insegnanti.